Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Volevo andare a parlarvi oggi della nazionale, la formazione che probabilmente scenderà in campo stasera, non è ovviamente certa, è la probabile formazione, però insomma sembra che sarà effettivamente così. Insomma volevo un po' commentarla per dire un po' cosa ne pensavo e degli interpreti che scenderanno in campo. Detto questo Mancini si schiererà con un 4-3-3, modulo che abbiamo già visto ormai negli ultimi mesi, appunto da quando Mancini è sulla panchina, con Donnarumma in porta, del quale non ho nulla da dire, nel senso che è la scelta ovviamente giusta. Donnarumma che anche quando non era in formissima, che prendeva sempre gol nel Milan, comunque il nazionale ha sempre fatto veramente bene, ci ha salvato il culo tante tante volte. Di conseguenza è giusta secondo me la scelta di puntare su Donnarumma rispetto magari a un Sirico, che anche lui ha dimostrato di essere molto in forma, però Donnarumma ragazzi è tanta tanta robina, in più ora è anche molto in forma. Lo vediamo con il Milan in cui negli ultimi mesi ha preso veramente pochi pochi gol, almeno da gennaio, da un paio di mesi prende pochissimi gol. Quindi scelta più che giusta. Passiamo alla difesa 4, difesa 4 in cui i centrali sono Bonucci e Chiellini, ovviamente non sto neanche a pensare di dire no. Biraghi e Piccini come esterni difensivi. Su Biraghi, allora, Biraghi a me piace tanto, a me piace moltissimo. Ora, Biraghi sono contento che sarà titolare, secondo me è giusto che sarà titolare, però spero, soprattutto in caso di vittoria questa sera, di vedere Spinazzola nella partita poi se non sbaglio di martedì contro Lichtenstein. Perché chiaramente una vittoria stasera può essere già un risultato molto molto importante, con Lichtenstein, salvo clamorose veramente, clamorosi avvenimenti, tipo con la Macedonia che te la vai rischiare di perdere, non dovrebbero esserci problemi a battere. Di conseguenza spero di vedere uno Spinazzola anche un po' per ambientarsi nel mondo della nazionale, quindi giusto alla scelta di Biraghi vedremo se giocherà Spinazzola contro Lichtenstein. Mentre invece sulla destra Piccini, scelta obbligata, sono contento perché almeno lo vedremo all'opera, vedremo un attimino questo giocatore che essendo anche all'estero lo abbiamo visto un po' meno, probabilmente, almeno io personalmente. Se sembra essere un buon terzino vedremo se Mancini ha scelto, non sarà uno stupido, però è chiaro che ora con l'assenza di Florenzi è una scelta obbligata e se dovessimo renderci conto che è una pippa siamo un po' del gatto per queste due partite. Comunque, il centrocampo a tre, del quale anche qui onestamente c'è pochissimo da dire, Giorginio Barella e Verratti, Giorginio non sta giocando benissimo col Chelsea secondo me, però in generale è un giocatore che è insostituibile al momento per l'Italia perché ti dà i tempi di gioco, comunque è come detto la scelta giusta. C'è anche Sensi che è il suo vice, però magari anche lui sarei contento di vederlo contro Liechtenstein. Mentre invece Verratti, ovviamente, anche qui non c'è nulla da dire, su Barella sono molto molto contento onestamente perché con Barella l'Italia secondo me ha trovato nelle ultime convocazioni, nelle ultime partite una sua stabilità e Barella è un giocatore che si sta dimostrando sempre più. Già nel Cagliari, ma anche comunque a giocarsi sempre il posto titolare nella nazionale, di essere un giocatore che a questo punto ha bisogno della definitiva consacrazione, quindi di una squadra di alto livello che investa su di lui per farlo definitivamente esplodere. Sto parlando ovviamente, si parla dell'Inter con insistenza, ma anche una Juventus, una Roma, un Milan, insomma, squadre di alto livello, almeno in Serie A, che possono puntare su di lui anche economicamente e di conseguenza spero di vederlo lì il prossimo anno per vederlo definitivamente esplodere. Ovviamente sarei contento di vederlo alla Juve, però parlando soprattutto ora in ottica nazionale sarei molto contento di vederlo esplodere in maniera definitiva perché comunque ha fatto sempre delle gran partite, in nazionale anche. Quindi sarei molto molto contento. Passiamo invece davanti, dove ci sono qualche sorpresa e sono molto molto contento di queste sorprese, adesso ve ne parlerò. Allora, dovrebbe essere un tridente con Bernardeschi, Immobile e Ken. Ora, credo che, siccome Ken non gioca esterno, credo che sarà un Berna leggermente più dietro alle due punte, quindi Immobile e Ken effettivamente. Ken che è in balottaggio con Politano, però comunque dovrebbe giocare lui, almeno lui il favorito. Allora, su Bernardeschi, ragazzi, non c'è nulla da dire. Bernardeschi attualmente è uno dei migliori esterni che c'è in Italia, nell'Italia. Mancherà chiesa, mancherà insignia e di conseguenza proprio non c'è manco da pensarci su chi potrebbe giocare. Così come Immobile là davanti, che è molto più avanti, secondo me, rispetto agli altri. Quindi rispetto a un Quagliarella, almeno qualitativamente, rispetto a Quagliarella, rispetto a Pavoletti, rispetto a Lasagna, è qualitativamente molto più forte. Però è anche vero che non segna, quindi bisognerà vedere con la Nazionale come si comporterà, perché per ora ha segnato veramente poco. Sono molto contento che Mancini si voglia giocare la carta Ken e vi spiego il perché. L'ho già spiegato nel video delle convocazioni, però ci tengo a questa cosa e quindi preferisco anche ripeterla, essere monotome e ripeterla. Io credo che l'Italia debba trovare un suo bomber, credo che l'Italia debba puntare sui giocatori giovani, come Cutrone, come Ken, appunto, cercando di farli esplodere in Nazionale, perché tanti giocatori magari giocano male nel club o giocano male nel club, vanno in Nazionale e diventano delle bestie. Io credo che giocatori come Cutrone e Ken abbiano il potenziale per essere dei bomber nella Nazionale e però chiaramente vanno rischiati, cioè nel senso Ken stasera è un rischio che si prende Mancini, una prova, oltretutto è molto in forma, quindi onestamente si può provare, è una prova che Mancini fa per vedere se Ken ha la qualità per essere il bomber futuro della Nazionale, perché non è possibile che nella Nazionale il nostro bomber sia Chiellini, capite? Quindi serve una punta e la puoi scoprire solamente attraverso i giovani, quindi lanci dei giovani, uno ogni tanto, quindi l'altra volta c'è Cutrone, questa volta Ken, e vedi se l'attaccante che appunto giovane decide di buttare nella mischia sa essere il bomber della Nazionale, quindi sono molto contento che se giocherà a Ken, sembra di sì, e sono molto contento di questa scelta, anche della convocazione, quindi va benissimo. E quindi ragazzi, come detto, vedremo poi stasera come se la caveranno, io onestamente mi rompo un po' le balle a guardare la Nazionale, però cercherò di guardarla, cercherò, ci proverò, vai se mi addormento è uguale, però, insomma, la formazione mi soddisfa abbastanza, mi soddisfa abbastanza, poi vedremo effettivamente qualche ballottaggio c'è, però se questa sarà la formazione di tolare sono molto molto soddisfatto. Detto questo ragazzi, il video è finito, io vi invito a mettere mi piace, se volete altri video sulla Nazionale, vi invito a scrivermi nei commenti la vostra, riguardo questa formazione, secondo voi se è quella giusta, e vi invito infine a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, attualità calcistica, fantacalcio, qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio. Detto questo io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.